Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come aggiornare la scheda grafica Nvidia grazie a Nvidia App Beta Ovviamente è semplicissimo questo metodo, quindi in questo caso ti ho lasciato il link in descrizione che ti porterà su questa pagina Andiamo così a scaricare la beta, c'è solamente questa versione, quindi per ora dobbiamo arrangiarci solamente con questa E aspettare che rilascino così le prossime versioni Andiamo così sul nostro desktop, prendiamo così il nostro driver, eseguiamo il driver come amministratore Preparazione all'istanzione in corso, ovviamente mi darà un errore perché io ho già installato questo driver Quindi accetta e install Eccolo qua, installazione in corso Ed ecco il nostro programma Nvidia, ovviamente se è la prima volta che usi un programma del genere devi fare l'accesso, quindi devi crearti un account qua sopra Poi andiamo direttamente su driver ed ecco qui puoi aggiornare i driver per la tua scheda video e non rimanere sempre indietro Gli ultimi aggiornamenti rilasciati sono del 4 aprile 2024, puoi installare e reinstallare di nuovo i driver Tutto qua, ovviamente come puoi vedere su aggiornamento disponibile puoi vedere driver studio e drive game ready Mi raccomando, aggiorna tutti e due driver studio Come puoi vedere mi sta scaricando e mi sta preparando così l'aggiornamento in corso Poi lo installo, una volta installato, riavvia il tuo sistema operativo, basta, hai finito Come scaricare e installare e aggiornare i driver della scheda grafica Nvidia Se siete stato utilissimo in questo video iscriviti, lasciate like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao